All'ospedale San Luca di Vallo della Lucania in questi giorni si registrano gravi disagi e carenze di personale medico. Non è la prima volta che succede. A denunciarlo sono proprio i cittadini e i turisti presenti nei comuni cilentani. Non si può prestare assistenza sanitaria con un solo medico se in pronto soccorso le persone che necessitano di urgenza sono tante, dice un cittadino. Questa mattina sono arrivato in pronto soccorso perché mi sono ferito gravemente sul posto di lavoro. Quello che mi si è palesato quando sono arrivato presso la struttura è stato davvero angosciante. Una fila di persone attese, ambulanze in fila, disagi e disservizi già dalle prime ore di questa mattina. Il San Luca di Vallo della Lucania è l'unico ospedale di riferimento ed è al collasso. A pochi passi però da Vallo della Lucania c'è una struttura, l'ospedale civile di Agropoli, che potrebbe dare un grande supporto dal punto di vista sanitario, visto che è una costola del presidio vallese, solo che le sue sorti sono state purtroppo già definite e per questa cattedrale nel deserto nulla servirà a farla tornare in funzione come prima. In un momento storico così delicato e soprattutto quando nel periodo estivo la popolazione triplica e anche gli accessi al PS sono davvero tanti, invece di riorganizzare e potenziare a supporto dei numerosi accessi ospedalieri il presidio agropolese di reparti importanti per l'assistenza vera al cittadino, si manda al collasso l'unica struttura presente sul territorio e per di più si vogliono garantire le prestazioni sanitarie in pronto soccorso con un solo medico di turno. Una situazione grave e anticostituzionale, nonostante il diritto alla salute, l'articolo 2 della Costituzione italiana lo indichi come il più importante dei diritti soggettivi e uno dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti.